Salve a tutti ragazzi sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul canale siamo tornati qui con la creatura e con il nostro West Ham Signori con la nostra magliettina del West Ham originalissima io non so perché nello scorso episodio qualcuno ha detto che era Fasulla ragazzi Cioè guardate qua io ho le lettere del West Ham Eccole qua ragazzi queste sono le lettere del West Ham che mi dicono grazie per aver acquisito l'altro sito ragazzi è originale È originale glielo dovevo voi non capite io glielo dovevo a questa squadra di comprarla originale come dovevo poi all'Udinese quella volta che ho preso la maglietta Ci stava secondo me prenderla originale detto questo ragazzi mi raccomando come al solito supero dal massimo la serie vi sta piacendo tantissimo sono contento mi sto stradivertendo Soprattutto stanno uscendo un po' di notizie di calcio mercato le ho viste su OneFootball Tra parentesi scaricatela dal link in descrizione è un'applicazione gratuita sia per iOS che per Android sul mondo del calcio ho visto un paio di notizie Magari fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti perché ho visto da OneFootball che il West Ham è super interessato a Perisic Quindi magari fatemi sapere cosa ne pensate di un futuro acquisto di Perisic magari in questa carriera allenatore Ma soprattutto ragazzi che il Manchester United ha puntato Declan Rice 50 milioni sul piatto per il giovane centrocampista degli Hammers Io sono abbastanza convinto di non venderlo il nostro Rice però fatemi sapere magari cosa ne pensate della questione Ivan Perisic Potrebbe essere un acquisto interessante magari una riserva interessante Allora signori oggi episodio molto importante Cazzarola quanto è importante questo episodio perché abbiamo la partita contro il Derby County che ci andiamo a giocare tranquillamente con le riservi Ma poi abbiamo andata in ritorno contro il Liverpool per quanto riguarda la Champions League Ho già fatto la formazione titolare signori andiamo in campo per questa partita contro il Derby County con questo Undici chiaramente dieci undicesimi di questa formazione sono i panchinari Detto questo andiamo in campo sempre sul pesto signori come al solito Forza Hammers Attenzione a questo cross Il colpo di stato è Lorenz E pallo esterno Del Derby County Onana battuto Qui Fredericks si è fatto anticipare Mamma mia non so se Onana ci sarebbe arrivato raga Occasionissima per il Derby County Martinez si è inserito al Miron ma il venezuelano preferisce giocare il pallone a Lukman Al centro di nuovo per Martinez Bella la palla per Soler col destro Soler Col destro Carlos Soler La sblocca Lo spagnolo Con una ripartenza un'azione magistrale Lukman al centro per Martinez Che vede l'inserimento Un po' in ritardo tra l'altro perché avrei voluto giocare la prima Ma il pallone è perfetto comunque Soler si fa trovare prontissimo Carica il suo destro Il piede forte E buca Il portiere del Derby County Alla prima occasione Ragazzi passiamo in vantaggio Attenzione a Lukman Ripassa dal centro dove c'è il Miron Una finta Si è inserito adesso l'inglese Lukman ha deciso di mettere il mezzo con l'Arabona Bogle Ottima chiusura Non so perché ha fatto l'Arabona Al Miron poi dà la bandierina Sul primo palo dove arriva Declan Rice Che prende il tempo a tutti Ma non riesce a inquadrare lo specchio Peccato ragazzi Guardate com'era saltato In alto Soler se ne va Martinez al centro Per Zelensky Si è inserito adesso il venezuelano Servito nuovamente Servito nuovamente Raga Ma quando partiamo così Quando giochiamo nello stretto Poi Siamo imprendibili E diventiamo veramente Ma veramente letali 2 a 0 Gol di Josef Martinez Con un'azione Ragazzi similissima Malone Malone e Suarez sul pallone Malone decide di giocarla Lorenz Ci prova con il mancino Pericoloso questo Lorenz Pallone viene deviato Da Fredericks Rischiando un pochettino Devo dire Soler Una finta Poi ce la mette sul mancino Attenzione a Soler Vediamo cosa si inventa Aspetta l'avanzata di Fredericks Sul fondo Fredericks la mette in mezzo Dove arriva di testa Wilshere Che ha appena entrato Al posto Di Lukman Ha l'opportunità Sulla testa Di chiudere definitivamente Il match Praticamente ragazzi Ho spostato Sull'esterno sinistro Zielinski E Avers È sulla tre quarti E ho fatto uscire Lukman E anche Almiron Finisce qui signori Finisce qui Minimo sforzo Devo ammettere Ci portiamo a casa Tre punti Molto importanti Che consolidano Un pochettino La prima posizione In classifica Il Derby County Onestamente Avrebbe meritato Qualcosina di più Noi siamo stati Molto cinici A segnare Praticamente Sempre Per Le occasioni Che abbiamo avuto Abbiamo dato Due tiri in porta Effettivi Signore L'abbiamo buttata Dentro In campo Giuseppe Martinez Ma ragazzi Fatemi dire una cosa C'è questo Lawrence qui Del Derby County Molto interessante Non perdiamoci In chiacchiere Abbiamo due giorni Di riposo E subito La partita D'andata Di quarti Di finale Contro il Liverpool Siamo ospiti E questo Finalmente Viene un pochettino A nostro favore Quindi Dobbiamo dare il massimo Dobbiamo assolutamente Almeno Segnare un gollettino Qui in casa loro E andiamo a fare La formazione titolare Chiaramente Comunque ragazzi Per essere la seconda stagione Penso di aver costruito Una squadra Incredibile Secondo me Guardate gli ovvero Gli ovvero sono molto alti Secondo me Per essere a una seconda stagione Gli sto facendo crescere molto bene Tierney è già all'85 Abbiamo Avers all'86 Neves all'86 E sta venendo fuori una bella squadretta Raga E siamo secondo me A questo livello A questo livello Veramente Andiamo in campo dunque Signori Sempre sul pezzo E forza West Ham Signori Siamo a Danfield Per Liverpool West Ham Derby inglese Per questi quarti Di Finale Di Champions League Ma ho visto che il portiere Del Liverpool Non è Alisson Ma Bogdan Cioè veramente Veramente Ma veramente Liverpool che ha battuto 2-0 Il Paris Saint Germain Ragazzi Quindi 1-0 1-0 Onesto Però onestamente Dalle facce che vedo Raga Senza perdere tempo Mi sembra Il 4-3-3 Classico Del Liverpool Didi Werner viene in contro Prende sul pallone La gioca larga per Felipe Anderson E arriva Trenino Tierney Sulla sinistra Tierney Può metterla in mezzo La palla Non è male Arriva Avers Un po' in ritardo Poi Anderson La mette fuori Il pallone era per Didi però Devo essere sincero Attenzione ad Arnautovic La mette in mezzo Tierney Lotta contro Oxland Chamberlain E riesce ad avere la meglio Lanzini Fa partire Felipe Anderson Attenzione a questa riprendita Dalle West Ham Felipe Anderson Mamma mia Carval Rientro perfetto Dello Spagnolo Attenzione a questo buco Nabichita Si trova sull'ala Destra Colibba lì Per ottima chiusura Ma regala il pallone a Fabinho Fabinho gioca a Chamberlain Fabinho poi la mette in mezzo Riccardo Pereira Chiude Poi Lanzini la rigioca Cadavers Da una parte Da una parte dall'altra Signore Ancora Felipe Anderson Ancora Timone Werner Si è inserito adesso Un Didi Servito perfettamente Arriva anche Il suo soccorso Lanzini Servito adesso Attenzione a Lanzini Robertson lo insegue Lanzini col destro Lanzini Bogdan Prima occasione del match Dunque Uh attenzione Perché la palla rimane lì Sul destro di Lanzini E poi Carval La mette fuori Attenzione a Nabichita E l'U del pressing Di due giocatori Da West Ham Con il destro Un gol incredibile Di Nabichita Signore Il Liverpool Passa in vantaggio Euro goal Secondo me raga Nabichita È mostruoso Veramente Ma veramente Mostruoso Non mi aspettavo Assolutamente un gol Del genere Guardiamo il replay Guardate come Se ne è andato bene Se è andato benissimo Al doppio pressing Niente da fare raga Niente da fare Per Onana Su questo destro E passiamo in svantaggio Signori Al trentottesimo Quasi allo scadere Del primo tempo Attenzione qui All'errore Di impostazione Di Van Dijk Neves fa partire Avers In seguito da Robertson Che è velocissimo Avers passa Dalle parti di Lanzini Di prima intenzione Poi per Felipe Anderson Ancora Lanzini Che si addormenta un po' La palla gli ritorna Prova il sinistro Ma Carval Attentissimo ragazzi Ci fa veramente fatica A passare Ancora però Il West Ham Tempo scaduto Felipe Anderson Prova a girarsi Werner Ma Van Dijk Fa ottima guardia Ancora noi ragazzi L'arbitro non fischia E fischia adesso Era giusto fischiare ragazzi Abbiamo provato Il pressing Finale Ma Non è andata bene Finisce quel primo tempo Come detto 1-0 Liverpool Gran Gol Di una bicaità Avers La palla per Lanzini Che la mette in mezzo Di prima intenzione Non ci arriva Ne Werner Ne Neves Ci arriva Victor Ruiz Calcio d'angolo Dunque per il West Ham Neves Su Lanzini Ogni Bogdan E poi Filippe Ma Filippe Anderson Filippe Anderson Se hai una delusione Te lo giuro Mi stai Diludendo Mi stai Diludendo Ma ragazzi Questo era un gol fatto Era da fare Era da fare Era veramente Da fare Porca miseria Lanzini Si è inserito Timone Werner Attenzione Werner Entra Era col mancino Werner E non so perché Ha tirato col mancino Raga Si è fatto male Neves Si è fatto male Neves Vediamo un attimo Se può restare in campo Raga Primo cambio del match Signori Fuori Filippe Anderson Dentro Lukman Che non mi sta Piacendo Filippe Anderson Non mi sta Piacendo Per niente Ho bisogno di più Su quella fascia Ho bisogno di più Paradossalmente Sta facendo molto meglio Avers Werner Lukman Attenzione perché Ha salito anche Tierney Ad accompagnare Tierney la mette in mezzo Dove c'è Avers Che colpisce Con due entrata Caimano Caimano Avers Sull'asse trenino Caimano Ragazzi Il West Ham Trova il pareggio Non so come Ragazzi Non so come Un pallone Incredibile di Tierney Forse Un pelo lungo Il cross ci sta Ragazzi Il colpo di testa Di Avers È Puderoso Ma anche Anche la dormita Di Bogdan È poderosa Anche la dormita Di Bogdan È poderosa Se fosse stato Alisson Ragazzi Questo gol Non l'avremmo fatto Doppia dormita Robertson Bogdan Ci permette Di pareggiare i conti Un gol Un gol Importantissimo Devo fare un cambio Ragazzi Perché purtroppo Neves Non sta bene Neves Non sta bene Dentro Wilshire Al suo posto Perché Soler E Zelinski Erano troppo stanchi Per venire con noi In panchina Ragazzi Ottima sponda Werner Bellissimo La palla di Avers Per Lukman Che prova il mancino Ragazzi Avevo tirato in precedenza Avevo già tirato Perché pensavo ci arrivasse Molto prima Werner Bella la palla Perché Che mano Avers 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 Davanti a Bogo A Bogdan Avers Io non so Se il terzino L'ha salvata Ma il pallone Finisce sulla traversa A Bogdan battuto Siamo veramente sfortunati Attenzione Lanzini Gran palla recuperata Poi la perdiamo Ultimo cambio Signori Fuori Lanzini Dentro Martinez Concludiamo I cambi così Ragazzi Con l'inserimento Di un attaccante Sì Con l'inserimento Di un attaccante Che però Gira da seconda punta Dietro a Timone Werner Vorrei provare Magari a mettere Un attimo In difficoltà Il Liverpool Che in questo momento Si trova realmente In difficoltà Attenzione Però Fabinho Che entra in area Wilshere prova A chiuderlo Ancora Wilshere Ancora Fabinho Però Che è in posizione regolare In due Ma dai Alzatevi un po' Ma cosa fate Ancora poi Il Liverpool Che si guadagna un calcio Non è vero Non è vero Era calcio d'angolo Però bravissimo Riccardo Pereira Ripartenza Forse l'ultima del match Signori Wilshere L'appoggia Avers Un po' lenti Questa volta Werner di nuovo Per il tedesco Che è molto stanco Robertson Sicuramente Dalla sua Più rapidità Più velocità Avers Però Sterza La mette in mezzo Lukman Non ci crede E Carval Segna un gran gol Carval Un'incorretta Un'incorretta pazzesca Che gol di Carval Signori Che gol di Carval Che buccio di sedere Guardate qui il cross Di Avers Ottimo inserimento Di Carval Che non lascia Speranza a Bogdan Guardate qui L'incorrata pazzesca Veramente pazzesca Veramente pazzesca Raga 2 a 1 Doppietta Di Avers Ma veramente Carval Cos'ha combinato 2 a 1 Insperato 2 a 1 Insperato Ero onestamente Convinto Che questa partita Finisse Sull'1 a 1 Ecco Butta via sto pallone E finisce qui Signori Finisce qui Vinciamo 2 a 1 Fuori casa Risultato Importantissimo Risultato Incredibile In vista del ritorno Signori Ma Dobbiamo ringraziare Carval E qui E qui ci sono le statistiche Ragazzi Vi dico la verità Il pareggio sarebbe stato Il risultato giusto Quello che è successo Alla fine È un È un fuori programma Incredibile Veramente pazzesco L'autogol Di Carval Andiamo a vedere un attimo Cosa si è fatto Il nostro Neves Distorsione alla caviglia Salterà il ritorno Di Champions League 3 settimane Di stop Intanto abbiamo già Reso conto Per Tom Lawrence 75 Attenzione ragazzi Perché questo Lawrence Per una carriera Low cost Secondo me potrebbe Essere interessante Semplicemente perché Siamo al secondo anno Quando lo trovate subito A 24 anni E potreste farlo salire Un pochettino Un giocatore interessante Per una carriera Low cost Quindi vedete Quanto è importante Avere una rosa lunga Adesso con questo Infortunio di Neves Comunque Grazie a Soler Grazie a Zielinski Grazie a Wilsher Riusciremo a Trovarci comunque Preparati Ci andiamo a giocare Questa parere Contro il Fulham Ragazzi Guardate la nostra Sessione in Classic Abbiamo 5 punti Dal Tottenham Abbiamo 5 punti Dal Tottenham E mancano Ancora partite Molto importanti Siamo ancora lì Siamo ancora lì Se stiamo concentrati Potremmo farcela Se stiamo concentrati Potremmo veramente farcela Signori Stessa formazione Delle seconde linee Per questa parita Contro il Fulham Visto il ritorno Che abbiamo Fra qualche giorno Contro il Liverpool Andiamo in campo Dunque signori Faccio riposare Zellinski Perché giocherà Titolare la prossima partita Sempre sul pezzo E forza West Ham Soler Bella la palla Per Rai Sottimo Il seguimento invece di Lukman Che ci prova col mancino Christie La devia E poi Il Fulham Evita anche Il calcio d'angolo Attenzione perché Continuiamo ad attaccare Almiron La gioca Rice Ci può provare Col mancino Rice Ha un soffio dal palo Ha un soffio dal vantaggio Il West Ham Rivediamo un attimo Il mancino di Declan Che si allarga La palla è uscita Di più di un metro Rice Ottima La palla per Almiron Almiron Silva Fabricio Almiron Col mancino Almiron L'ammiraglio Almiron 1-0 West Ham Ottima palla di Declan Rice Di prima intenzione Fabricio Patricio Non mi ricordo come si chiama Il portiere del Fulham Esce malissimo E Almiron Tra l'altro Almiron Col mancino Che da quella posizione lì Era molto defilato Non era comunque semplice Passiamo in vantaggio Però Con l'ammiraglio Almiron Quanto è bella sta maglietta Ragazzi Quanto è bella sta maglietta Martínez La larga per Lukman La palla viene deviata Torna da Martínez Wilshere Indietro per Soler Col mancino Soler Non se lo calcolava nessuno Lo spagnolo Ha avuto tutto il tempo Per coordinarsi Provarci Col mancino La palla Sfiorla Traversa Alta di poco Non ci sarebbe arrivato Fabricio Che è rimasto fermo Attenzione a questo calcio d'angolo Il colpo di testa Di Magaia Al palo Non ci credo Non ci credo Ma non ci posso credere Ragazzi Pareggio Fulham Con questo colpo di testa Incredibile Di Magaia Ragazzi Ma questi calci d'angolo qui La maggior parte del volto Non spaventano Ma è riuscito a saltare In mezzo a due Guardate qui Che colpo di testa Incredibile Non ci può mai arrivare Onana Il Fulham Trova il pareggio Con Magaia Martínez Apertura Per Soler Attenzione Prende il tempo su Brian Soler Entra in aria Soler Può metterle in mezzo Dove c'è Almiron Ottima la chiusura del Fulham Che conclude Sull'1-1 Il primo tempo Ragazzi È un Fulham Arrembante Devo dire Ho fatto un po' di fatica A difendermi Il Fulham ci crede tanto Vabbè Con l'unico tiro Tra virgolette Hanno sognato Ma Stanno veramente Ma veramente Giocando molto bene Attenzione qui all'errore L'ho chiamato Almiron Almiron Passi in mezzo a tutti Almiron Col mancino Almiron L'ammiraglio Sfrutta A pieno L'errore Del Centrocampo Comunque L'errore di impostazione Del Fulham Che spettacolo Signori però Almiron È andato dritto Come un treno E non l'ha Fermato nessuno Non è riuscito a fermarlo nessuno Perché Almiron Fisicamente Non è un gran che Ma è molto rapido È molto veloce Ha preso veramente Il tempo A tutti quanti Non si aspettavano Questo errore Dritto per dritto Almiron E poi ha tirato Col mancino Un tiro Deviato Forse Li vediamo Eh non so Come l'ha colpita Ragazzi L'ha colpita Con un bel mancino Interno Bene così Doppietta per Almiron Attenzione Non è vero Non ci credo Non ci posso credere Ragazzi Ma non ci posso credere Ma non ci posso credere Doppietta di Magaian Ragazzi Doppietta di Magaian Cioè questi mi hanno fatto Due gol così Calcio d'angolo Sulla testa di Magaian Guardate Nessuno riesce a tenerlo Eh questa è la messa all'incrocio Porca miseria Incredibile Il Fulham Trova di nuovo il pareggio Cioè ma non è vero Che questo ha fatto due gol In Premier League E me li ha fatti tutti Ma immaginavo Che questo fosse uno schema Magaian Ma pensa Finisce qui dunque Signori Partita molto divertente Che si conclude Con questo risultato Il risultato di Due a due Sicuramente i protagonisti Sono stati Almiron e Magaian Doppietta per entrambi È veramente un peccato Veramente È veramente un peccato Non essere Non aver vinto questa partita Anche perché Il Fulham ha fatto Solo questo Però come detto Come si vede anche un po' Dal possesso Ha tenuto più Il pallino del gioco Devo essere sincero Non ha avuto Occasioni pericolose A parte i due Colpi di testa Di Magaian Forse è anche un pareggio Che non Ci può stare Ci può stare Hanno giocato bene Loro Mi sono Mi sono piaciuti Noi Onestamente Siamo con la testa Un po' altrove Raga Siamo sinceri Diciamola tutta Sono più con la testa A questa partita Contro Il Liverpool Che all'andata Si è messa bene Signori Ma che non Non sono assolutamente Convinto di aver passato Il turno Ecco perché Il Liverpool È capace di tutto È una squadra Fortissima È una squadra Che ci darà Filo da torcere Però ovviamente Adesso Si entra in campo Con i titolarissimi Come detto Zielinski Al posto di Ruben Neves Infortunato Andiamo a giocarci Questa partita Con questo 11 Signori Sempre sul pezzo E forza West Ham Forza Laga Andiamoci a guadagnare Questa semifinale Di Champions League Sarebbe veramente Ma veramente Non dico niente Non dico niente Facciamo le corra Tocchiamoci le palle Tocchiamo ferro Sitti Andiamo in campo Stesso 11 Per il Liverpool Rodrigo Nabigheta Arnautovic Oxlade Chamberlain C'è Milner C'è Milner Al posto di Di Robertson Ragazzi Milner Terzino sinistro Sì perché C'è Anderson E quindi sì Stesso 11 Cambia solo Milner Al posto Di Robertson Attenzione a Lanzini Servizie Linschi Si fa vedere Andidi Potrebbe provare il destro Preferisce giocarla Lanzini Un raso terra Infernale Quello di Emanuele Lanzini Bogdan Però La vede partire Riesce a bloccarla Attenzione a Werner Che difficile Tiene su Van Dijk Poi viene steso Da Victor Ruiz E penso sia giusta L'ambulizione Perché Werner Aveva tenuto Non so come Su Van Cazzi Eh però È difficile Tenere su Due centrali Di queste dimensioni Fallo Nettissimo Devo ammettere Felipe Anderson Sulla battuta E io invece Ci farei andare Manuelito Lanzini Va Manuelito Lanzini Bogdan La para facile Sera ancora Werner Che non fa capire niente I difensori centrali Felipe Anderson La mette in mezzo Avers Signori È lui il protagonista Di questi Quarti di finale Kaimano Avers Inserimento spettacolare 1-0 West Ham Ancora Kaimano Avers Con la testolina Ancora Kaimano Avers Con La testolina Mamma mia Signori Mamma mia Signori Una volta Robertson L'altra volta Milner Bogdan Non può nulla I terzini Dell'Everpool Invece Devono migliorare Sulle diagonali Difensive Ottima qua La palla in mezzo Di Felipe Anderson Avers Buca tutti Si schianta contro il palo Ma non gli interessa Perché ha segnato Il gol Del 1-0 Senederson Inserimento spettacolare Per Rodrigo Tierney Prova a chiuderlo Gli facciamo perdere un po' di tempo Ancora la palla viene allargata Per Keita Un'ana la respinge Un po' centrale Ancora Rodrigo E ancora Onana la blocca La respinta di Onana Però veramente Ma veramente Malvagia Attenzione a questo rinvio Però spettacolare Fa ripartire subito Felipe Anderson Carval Però questa volta attento Finisce qui il primo tempo Signori West Ham avanti 1-0 Devo dire Senza particolari problemi Abbiamo fatto Quell'azione lì Pericolosa Abbiamo segnato Era un'occasione Abbastanza ghiotta Per il resto Però stiamo controllando La partita Il Liverpool ha avuto Una piccola azione Ma niente di che Ecco Attenzione qui Il Liverpool Eccolo lì Eccolo lì Proprio Arnautovic Proprio Arnautovic Con questa giocata Nello stretto Il Liverpool Un pochettino Ci ha messo In difficoltà E non ci voleva Questa riapertura Riguardate Gli abbiamo lasciato Veramente molto spazio Su quel lato Rodrigo nello stretto Per Arnautovic La marcatura di Pereira È molto larga Devo ammettere Un po' si è addormentato Il portoghese Arnautovic La mette in porta È già il secondo gol Che ci segna Da quando è andato A Liverpool Zelinski Per Timone Werner Che prova il destro Timone Werner 2-1 Bogdan Addormentatissimo Tuffo Irritardissimo Del portiere Del Liverpool Sembrava un sacco Di patate Destro a giro Non troppo potente Ma però È abbastanza Ma però Non si dice Ma Però Vabbè È molto preciso Però no Il tuffo di Bogdan È veramente Irritardissimo Si rivede anche Timone Werner E a questo punto Ragazzi 2-1 all'andata 2-1 al ritorno Attenzione a questa Ripartenza a West Ham Almiron Fa correre Caimano Averz Un po' stremato Averz Sul destro Poi sul Mancino Ancora sul destro Di nuovo sul Mancino La può mettere in mezzo Dove c'è Timone Werner Che si addormenta Viene anticipato Didi Poi di nuovo per Tierney Attenzione a Tierney Potrebbe liberare il Mancino Tierney Lo prova Un po' defilato Bogdan questa volta Ci mette i pugni Emane Evita il calcio d'angolo Mancano 10 minuti Alla fine del match Signori Ma c'è ancora il West Ham Avanti Zelinski Didi Ancora per Tierney Col Mancino Tierney Deviata Deviata Trenino Lo zampino ce lo mette sempre Trenino Tierney Signori 3 a 1 Devo ammettere ragazzi Che in questi quarti Siamo stati fortunatissimi Molto fortunati Secondo me È tutto merito Di questa maglietta La maglietta fortunata Il Mancino di Tierney Sarebbe stato centrale Addirittura Con il braccio Victor Ruiz Sapete che questo gol Mi ricorda tantissimo Quello che ha fatto Casemiro In finale Champions League Contro la Juventus Tiro che andava Più o meno centrale Addirittura Fuori Deviazione E palla che si insacca Vicino al palo Finisce qui signori Siamo ufficialmente In semifinale di Champions Battiamo il Liverpool 3 a 1 Per un totale Di 5 a 2 Stradominio potere Degli Hammers Signori In questi quarti E adesso sono subito Curioso di vedere Chi Sfideremo In semifinale Sicuramente Signori Il migliore Secondo me in campo Quest'oggi è stato Avers Anche quest'oggi Perché anche la scorsa Volta aveva giocato Molto bene Il Caimano Non perdona Il Liverpool E Tierney Molto bene Come al solito Niente da dire Bravi ragazzi Bravissimi Ragazzi Siamo in semifinale Di Champions Una squadrona Non mi è mai capitato Di avere una squadra Secondo me questa è una delle squadre Più forti che io abbia mai allenato Lo dico Lo dico Lo dico Lo dico Abbiamo passato il nostro periodo Di merda Ma Ogni carriera Secondo me Ha il proprio periodo di merda E abbiamo 6 punti Sul Tottenham Mamma mia Potremmo fare veramente L'unplane Soler Il suo ruolo nel club Onestamente Non so di cosa si stia lamentando Che ha giocato fino ad adesso In ogni caso ragazzi Giocherà La prossima partita Vediamo un attimo Se è uscito Il tabellone Della Champions Oh Signori Ancora un derby Ancora un derby Questo è veramente Un derby Raga Questo è veramente Un derby Questo è veramente Un derby Doppio derby Anche qui Atletico Real Madrid Chelsea West Ham United Ma assurdo Veramente Assurdo Chelsea Che in questo momento Si trova sesto In campionato Vediamo un po' Chelsea Che solitamente gioca Con Kepa In porta Abbiamo in attacco Balutelli Alvaro Morata E Tami Abram Abbiamo Eden Hazard Chiaramente E sulla destra Sempre di Maria Ogni tanto William E anche Pedro In centrocampo Invece abbiamo Golo Kanté Che non può mancare Bakayoko E Rakitic Centrocampo 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-3-2-3-2-3-3-3-2-2-3-3-325-3-3-2-3-4-3-3 della seconda stagione quindi vediamo un po' come va e poi decideremo cosa fare in futuro detto questo come al solito lasciate un piaccio, un commento, un consiglio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi